Mercoledì 19 maggio 2021, benvenuti, bentornati, nuovo appuntamento con New Tech. Oramai siamo giunti alla terza puntata del nostro viaggio verso la WWDC e attraverso in realtà tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere a inizio settimana ho voluto fare un cambio di programma, un cambio che è praticamente solamente l'inversione delle ultime due puntate. Infatti fino a settimana scorsa pensavo ovviamente di dedicare questa puntata a WatchOS per poi finire il viaggio con tvOS, però sappiamo anche quello che è successo lunedì con un annuncio credo importante per Apple perché dopo 20 anni, anzi ha 20 anni dall'intrattenimento 2.0 se così vogliamo definirlo, quindi una sorta di ammodernamento che portava un cambiamento radicale indubbiamente a quella che è stata appunto l'industria musicale arriva una nuova svolta e arriva secondo me in un momento abbastanza importante perché appunto ad ottobre del 2001 arrivo iTunes, arrivo l'iPod e se vogliamo in questo 2021 a distanza di 10 anni un qualcosa che è presente oramai nelle nostre vite da tempo perché sono 5 anni da quando oramai Apple Music è entrato nei nostri smartphone nei nostri tablet, nei nostri computer, addirittura nei nostri orologi un qualcosa tipo Apple Lossless, tipo la nuova modalità di fruizione della musica e ne abbiamo già parlato più volte qui su iTech è comunque una mossa importante ma la cosa interessante quindi è stato ok Jacopo, parti da quella che è una delle notizie più importanti del momento nella tecnologia, va bene tutto ciò che abbiamo vissuto tra ieri e oggi con la moltitudine di recensioni, ieri di iMac, oggi di iPad Pro va benissimo tutto ciò che sarà nei prossimi giorni il day one va benissimo anche ciò che abbiamo vissuto ieri cioè la conferenza di Google dedicata agli sviluppatori che sostanzialmente ha svelato il suo sistema operativo però è importante la notizia di lunedì ed è importante inserirla in un contesto globale dove arriverà un nuovo Apple TV che indubbiamente farà parlare di sé in bene o in male solo ed esclusivamente con ciò che potrebbe arrivare o meno alla prossima WWDC per cui oggi si parla di tvOS e non solo Sì, era partita anche all'inizio la sigla di Anipad Guy ma fate finta di niente è il bello della diretta semplicemente ho sbagliato a schiacciare il pulsante che faceva partire la sigla giusta partiamo quindi con quella che è la notizia della settimana Apple fa in un modo abbastanza simile ciò che aveva fatto nel 2017 quando alla proprio la WWDC viene svelata la nuova Apple TV quella che era nuova fino al 20 di aprile del 2021 con un aggiornamento di conseguenza gratis a 4K HDR di tutto il catalogo presente quindi vuol dire che senza ombra di dubbio chi aveva un dispositivo compatibile poteva vedere meglio i film in sostanza Apple a distanza di 4 anni ha fatto la stessa cosa con la musica Apple Music oramai è un servizio molto interessante lo conosciamo dalla WWDC appunto è sempre tutto ciò che torna perché lo conosciamo dalla WWDC di 6 anni fa e in quell'occasione arriva un ottimo servizio musicale che fa apparire in un modo o nell'altro una fruizione made in Apple una fruizione più simultanea al sistema operativo tutta la musica nel frattempo i servizi sono aumentati l'ultimo per citarne solamente appunto ciò che viviamo dopo poco tempo è Find My Network e la cosa è abbastanza interessante perché Apple ha presentato prima Find My Network e poi qualche settimana dopo ha presentato l'Hirtag e quindi con tutto ciò che stiamo vedendo in queste settimane quindi con la battaglia Apple vs Epic che entra sempre più in maniera preponderante nella discussione e sostanzialmente Apple vuol far vedere che non è semplicemente la monopolista ma appunto è un'azienda decisamente aperta prima presenta il Find My abbiamo appunto il Cipollo abbiamo comunque altri dispositivi che entrano a far parte del Find My e poi arriva AirTag con il Cip 1 di iPhone 11 e iPhone 12 con una funzione in più e a quanto si capisce notizia di ieri di Jon Prosser nel podcast Genius Bar nell'ultima puntata è venuto fuori che Apple potrebbe in un modo o nell'altro rilasciare a breve un nuovo software un nuovo firmware per gli AirPods per tutti gli AirPods che cambiano il protocollo di trasmissione con un nuovo codec per cui se Apple per il momento perché in tutti i vari statement in tutti i comunicati stampa dice che currently attualmente Apple Music in Lossless non può essere sfruttata attraverso una qualsiasi cuffia o auricolare di Apple magari presto sarà possibile farlo la cosa abbastanza interessante è quindi iniziare a vedere come l'azienda con una nuova Apple TV potrebbe iniziare a far fare ai servizi un netto passo in avanti perché Apple TV è sostanzialmente quello Apple TV è un box che è destinato ai servizi non lo abbiamo visto in mille salse perché ci sono gli stick della concorrenza da una parte i Fire TV Stick di Amazon dall'altra parte ci sono le mille mila Chromecast compresa Chromecast con Google TV per cui una sorta di versione un po' più completa con un sistema operativo un po' più indipendente in realtà da uno smartphone da un tablet e quindi Apple si smarca e per quanto io possa essere l'utente medio per un prodotto del genere cioè se Apple facesse una sorta di Fire Stick con una sorta di tvOS con le applicazioni io ho uno uno smart tv di Philips di un paio d'anni fa credo sia un medio gamma del 2018 dove purtroppo ho un sistema operativo basato su Linux ho già fatto questo discorso qui sul podcast e purtroppo ho solamente alcune applicazioni perché nativamente ho le applicazioni di YouTube di Amazon Prime Video e di Netflix io sono un utente un po' più completo riesco in un modo o nell'altro ad avere un po' più di scelta perché da una parte mi sto vedendo una serie che ho su Dropbox e quindi per esempio uso Infuse dall'altra parte sono un utente abbastanza attivo di Disney Plus e quindi voglio avere qualcosa di più completo e quando ho decisamente avuto la possibilità di provare una Chromecast Ultra diciamo che non mi andava per esempio VR oppure tramite un set top box tramite SkyQ la versione di Disney Plus per SkyQ è stata abbastanza strana per quale motivo? semplicemente per un fatto banalissimo di calibrazione non so per quale motivo ma io vedo il logo di Marvel arancione quindi vuoi non vuoi sono interessato ad un prodotto come l'Apple TV ma l'Apple TV è un prodotto che alla prossima WWDC deve cambiare perché tvOS quindi un sistema operativo che ricordiamoci non è solamente destinato ad un prodotto del genere ma è destinato anche agli HomePod perché da poco tempo l'azienda ha switchato da HomePod da iOS a tvOS sugli HomePod quindi è un sistema operativo più completo un sistema operativo più portato appunto all'intrattenimento e di conseguenza con ciò che è stato presentato lunedì io vedo di buon occhio ciò che Apple potrebbe fare secondo me in una maniera semplicissima quindi iniziare a dirottare molto più sulle collaborazioni perché ricordiamoci che ad esempio Spatial Audio è praticamente una tecnologia di Apple che in Apple Music funziona grazie alla collaborazione con Dolby che non è semplicemente una collaborazione che inizia con con una nuova versione del progetto ma in realtà Dolby Atmos è scusate Dolby Vision è qualcosa che già conosciamo da settembre quando Apple ha portato quella versione decisamente interessante dei video in Dolby Atmos quindi una mossa del genere è molto molto fatta bene quindi io cosa mi aspetto da TVOS ne abbiamo parlato e vi ricordo che nelle note dell'episodio trovate il foglio di calcolo per andare ad aggiungere tutto ciò che volete appunto riguardo a WatchOS per poi concludere il viaggio la prossima settimana prima di poi avere una puntata il 2 giugno in cui vado a fare un discorso abbastanza interessante secondo me da prendere in considerazione su sull'App Store secondo me Apple deve iniziare a interagire con i vari competitor che a questo punto non sono solo competitor ma possono in un modo o nell'altro essere anche dei amichetti che in sostanza potrebbe imparare ad avere qualcosa di più perché TV Plus comunque è qualcosa di indubbiamente interessante ho visto sto vedendo dei contenuti ne vedrò altri a breve perché voglio voglio avere un buon display su dove vedere i prodotti e quindi voglio perlomeno vedermi in Dolby Vision quindi nelle prossime settimane vi dirò qualcosa magari lunedì non spoiler però appunto potrei potrei anche raccontarvi qualcosa su suonipodguy nella puntata del 24 di maggio quindi puntata di lunedì oggi però credo che Apple debba imparare a capire quello che i servizi possono fare ma non i servizi semplicemente da integrare con qualche funzione ma secondo me devi imparare ad avere una sorta di dialogo continuo perché Apple è innanzitutto l'unico che ha una bella piattaforma completa di prodotti perché io oggi parlo di tvOS perché tra HomePod ed Apple TV in sostanza parliamo di qualcosa che non avranno questa base larghissima però per Apple portano un qualcosa di inevitabile perché portano appunto l'intrattenimento e Apple si sta dirottando tantissimo sui servizi abbiamo visto le Airpods Max abbiamo visto gli Airpods sostanzialmente spero possa esserci un ritorno anche dell'HomePod Classic magari anche in Italia magari con una soundbar con la Apple TV integrata quindi tutto questo che poi alla fine è un mischione tra rumor e quello che in sostanza abbiamo appena visto porta semplicemente alla consapevolezza che se ci fosse un dialogo costante tra Apple e tanti competitor potremmo sostanzialmente ritrovarci un ottimo servizio per qualsiasi piattaforma se se Apple parlasse con Mediaset con Rai con Sky Via Now con tutte le piattaforme quindi con Google per YouTube Netflix Disney Amazon per Prime eccetera eccetera potrebbe esserci un ritorno se vogliamo ad una sorta di gestione made in Apple dei contenuti così come ad esempio nelle prime versioni di iOS c'era l'applicazione nativa di YouTube quindi un'applicazione molto fatta bene in stile Apple a me piacerebbe avere un posto dove ho un paninsesto di tutto ciò che ho per la versione live ma non solo se Apple TV mi potesse dare tramite tv un pannello completo semplicemente con una visione unificata di guarda più tardi io potrei avere magari le serie che ho messo su Now magari poi ho un film che stavo vedendo su Disney Plus ho una serie che posso voler continuare da Prime e ho la partita dell'Inter su Dazon e magari ho l'applicazione dell'NBA con la prossima partita dei Lakers quindi a me piacerebbe che la nuova Apple TV partisse innanzitutto come una sorta di versione di partenza di un mercato che si sta evolvendo in maniera repentina semplicemente pensiamo a quello che è successo a tutti noi tra marzo 2020 e questo maggio 2021 e sostanzialmente vediamo quanti contenuti online stiamo vedendo quanti contenuti online magari stiamo anche sentendo e TVOS deve partire da questo presupposto quindi una sorta di hub centralizzato che poi sia anche casa per altro perché da una parte c'è appunto questo mondo che è il mondo della frizione però quando si parla di Apple e si parla soprattutto di un Apple TV che arriverà innanzitutto con un telecomando molto più semplice perché arriverà un telecomando senza di aeroscopio senza accelerometro quindi un telecomando vecchio stile e a me piacerebbe avere una sorta di versione 2.0 di Apple Arcade ma non solo a me piacerebbe avere una sorta di versione made in Apple di quello che potrebbe essere un Project X Cloud di Microsoft o un Playstation One che punti proprio a questo quindi ad un qualcosa che vada un pochino a sbilanciare tutto ciò che abbiamo quindi Apple fa accordi con le major produttrici dei videogiochi oppure con le stesse caratteristiche di questi progetti o appunto andando a dialogare direttamente con i progetti in un modo o nell'altro sia anche casa di tutto ciò che è visto che anche oggi abbiamo visto nelle recensioni soprattutto americane di Apple M1 degli iPod con Apple M1 con il 5G e il 5G sul mondo gaming potrebbe essere qualcosa di interessante pensate semplicemente ad un Google Stadia presente su Apple TV cosa potrebbe fare con un controller made in Apple magari con lo switch automatico come gli Airpods si parla anche di questa Apple Switch o semplicemente un posto in cui incastrare l'iPhone per poter giocare appunto anche in 5G via via smartphone ma con e lo dicevano nel foglio Excel o tramite Apple Arcade ma con dei giochi notevolmente avanzati oppure in maniera diversa tramite il cloud e Apple sta puntando tantissimo sul cloud di qui ai prossimi anni e credo e auspico che tutto questo possa in un modo o nell'altro entrare a far parte della mente di ognuno di noi per andare poi a portare nel 2021 un sistema più completo per tutti i tipi di intrattenimento perché l'intrattenimento sui prodotti Apple è un intrattenimento sempre presente e un set of box con un processore potente che passa da una 10 ad una 12 quindi ad un processore che abbiamo visto nell'iPhone di due anni fa oramai tre anni fa però un processore così a qualcosa serve e quindi va bene non sarà magari il processore a 14 che tanti speravano però un prodotto così non mi puoi dire che è solamente per la visione di contenuti perché da una parte avremo sì una miglior visione di ciò che sono i contenuti sulla nuova Apple TV abbiamo addirittura il supporto agli alti frame rate per i contenuti in HDR però vuoi non vuoi qualcosina resta e resta secondo me la mare in bocca su tutte le piattaforme perché avere una sorta di versione centralizzata non solo della visione dei contenuti e i channels in America funzionano bene e non mi spiego perché da noi arrivano gli Amazon channels e non ad esempio gli Apple TV channel perché con una sola interfaccia io posso avere tutti i miei dispositivi vedo quello che è per esempio qualsiasi dispositivo e ho Spectro ho Apple TV ho Netflix ho Twitch ho Youtube ho Vimeo ho Prime Video ho Disney Plus ho Mediaset Play ho The Zone ho Discovery Plus e Disney Escaigo barra now e ho Infuse cioè pensiamo semplicemente avere questi tutti questi contenuti in una sola applicazione ma non solo ho anche Just Watch TV Time pensiamo semplicemente avere una sorta di versione 2.0 anche dei wrapped di Spotify perché quando mi viene detto Apple Music a me piace non piace a me piace molto il mio sistema di ascolto musicale da anni soprattutto per integrazione con Apple Watch perché è un prodotto notevole e poter utilizzare la connettività cellulare in esterna mi porta comunque ad avere tutte le mie canzoni su un dispositivo ed è anche il motivo per cui io non utilizzo ad esempio applicazioni di terze parti per l'ascolto dei podcast un prodotto del genere vale la pena provarlo e Apple TV deve diventare una sorta di prodotto che cambia l'esperienza d'uso oramai i servizi sono interessanti abbiamo quasi tutto in 4k addirittura Sky ha portato l'HD anche su Sky Go per cui Now è comunque in 1080p è vero per il momento non avremo le partite e i GP in 4k HDR però adesso appunto le partite passeranno in toto almeno la serie A da Sky ad Azone per cui vinerà vedere l'infrastruttura però la cosa ipotetica di un Apple TV è che potrebbe cambiare veramente il modo di fruire i contenuti semplicemente perché è la filosofia Apple e quindi quando poi si parla anche di servizi a me piacerebbe poter stoppare una una canzone oppure con con continuity oppure visto che tvs è anche a bordo degli HomePod a me piacerebbe avere una sorta di continuità tra HomePod e altri dispositivi quindi la cosa è molto interessante riuscire ad avere gli HomePod che ti puoi portare e riprendere una canzone quindi tu appoggi il telefono tiri al telefono una cosa del genere tramite Apple TV su qualsiasi dispositivo a me piacerebbe tantissimo quindi prendo l'iPad lo appoggio sull'Apple TV o lo affianco l'Apple TV schiaccio un pulsante e qualsiasi contenuto io sia in riproduzione sull'Apple TV me lo passa sull'iPad oppure sull'iPhone o tra un dispositivo e l'altro anche per la riproduzione musicale a me una cosa del genere piacerebbe tantissimo perché sarà un qualcosa di stranamente made in Apple che ad oggi non abbiamo è una di quelle cose che l'azienda potrebbe riuscire ad organizzare in maniera veramente interessante senza che però un prodotto del genere riesce poi a portarti veramente un punto di vista diverso sull'intrattenimento e Apple deve interessarsi a questo perché Apple TV è morta se veramente un'azienda del genere non riesce a portare il 7 di giugno un sistema operativo ad un prodotto del genere anche perché negli ultimi anni ha liberalizzato per esempio il contenuto di Apple TV non solo vincolandolo appunto al suo set of box ma a tantissime applicazioni praticamente per tutti i dispositivi a me piacerebbe avere per esempio la possibilità di gestire i contenuti in Airplay sulla mia televisione purtroppo non ce l'ha quindi per un dispositivo come il mio magari un Apple TV o anche una Fire Stick o anche un Chromecast Ultra potrebbero andar bene io per esempio sono passato ad Apple TV semplicemente per avere Airplay ma soprattutto con la speranza di poter in qualche modo anche uscire da tutto ciò che è intertenimento perché a me piacerebbe avere con l'arrivo e lo abbiamo visto oggi con le recensioni degli iPad Pro M1 vi parlerò anch'io del nuovo iPad Pro col processore M1 lunedì spero con tutto ciò che in realtà potrebbe essere in maniera entusiasmante ragazzi pensateci bene la produttività index quanto sarebbe interessante se io dal tablet dal telefono magari prima dal tablet magari solamente dall'iPad Pro del 2021 giustificandoli come abbiamo detto la settimana scorsa su un iPad Guy con la questione del chip M1 io semplicemente trasformo il mio tablet in un mouse in un trackpad con la tastiera e poi ho la possibilità di controllare una sorta di desktop su Apple TV questa cosa potrebbe essere interessante quindi una sorta di Dex wireless oppure una versione un po' più compatta un po' più immatura con tutto ciò che in realtà abbiamo perché un prodotto del genere potrebbe iniziare a diventare importante quindi in una sorta di futuro in cui semplicemente il telefono è il mio dispositivo principale arrivo in ufficio ho l'Apple TV arrivo a casa ho l'Apple TV o magari in futuro in ufficio avrò un monitor con Airplay dentro poi arrivo a casa e ho l'Apple TV un qualcosa del genere e sicuramente sarà iniziare dalla WWDC una sorta di discorso sarebbe interessante appunto iniziare questo discorso dopo la WWDC perché i contenuti devono passare in sostanza per tutto ciò che abbiamo già da noi e i prodotti che in realtà abbiamo sono interessanti e quindi quando mi si parla di Dolby Atmos quando mi si parla di Apple Lossless ragazzi è una cosa entusiasmante perché vuol dire che io attraverso i dispositivi che ho ho una marcia in più ovviamente Apple inizierà a portare in casa propria delle cose nuove ad esempio e lo sappiamo benissimo tutti la possibilità di far fruire i contenuti magari con determinati prodotti tipo il supporto Dolby Vision nella nuova Apple TV per vedere i contenuti di prodotti a 60 fps oppure la possibilità di avere nel prossimo TVS in DC versione HomePod innanzitutto ovviamente non sto neanche a dirlo Siri in italiano per cui chi ha fatto un investimento sugli HomePod di prima generazione o su chi ha comprato o perché no potrebbe arrivare anche nel nostro paese anche l'HomePod Mini potrebbe iniziare veramente a recuperare un nuovo modo di fruire i contenuti e a questo punto la nuova Apple TV deve diventare interessante poi potremmo stare qui a parlare per anni si parla addirittura di una nuova Apple TV che potrebbe avere il microfono e la webcam per far chiamate FaceTime e qui poi sarebbe un nuovo posto in cui Apple sbaglia piazzare telecamere tipo il bordo di iPad però in tutto questo cosa potremmo vedere nei prossimi mesi? Potremmo vedere una piattaforma solida ho provato Apple TV durante il secondo lockdown ho provato tvOS non avevo mai avuto un Apple TV e mi è sembrata comunque una piattaforma abbastanza solida a me piacerebbe vedere innanzitutto tutte le applicazioni tipo Mediaset grazie perché i contenuti on demand oramai sono i contenuti maggiori ok l'applicazione di Mediaset ce l'ho su Sky quindi dovrei poi switchare tra HDMI 1 e HDMI 2 andare applicazioni poi Apple TV ce l'avrei cablata e Sky no ok ho comunque una connessione in fibra però ogni tanto ieri ci ho messo gli anni a scaricare un episodio di un di del di un documentario su Franco Battiato e ragazzi a me piacerebbe avere una piattaforma unica in cui andare poi a gestire tutti i contenuti audio e video quindi quando uscirà tvOS avendo comunque una piattaforma una televisione con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos proverò a sentire l'audio però se con la prossima Apple TV o meglio con l'Apple TV e il prossimo tvOS tutto ciò inizierà a diventare più interattivo quindi la multiutenza semplicemente avvicino un iPhone all'Apple TV e mi si switcha tra i vari utenti quindi io posso avere le mie foto mio fratello può avere le sue foto mio padre può avere le sue foto stessa cosa con la musica perché no stessa cosa con gli account ok che la maggior parte dei servizi sono Netflix e tutti gli utenti però per esempio su YouTube visto che alla fine sono l'unica persona che usa YouTube come un social network quindi una serie cioè io guardo più o meno YouTube circa tre ore al giorno in questi giorni ovviamente tutte recensioni di prodotti Apple però la cosa abbastanza interessante potrebbe essere quella di andare poi ad avere mio fratello sul suo account che non mi va a sporcare la cronologia delle visualizzazioni perché poi mi trovo con le lotte di MMA oppure quando mio papà guarda i suoi video poi mi trovo magari contenuti sul giardinaggio nei consigliati di YouTube e poi capisco ovviamente vado a cancellare la cronologia delle delle visioni quindi in sostanza questo è ciò che mi aspetto partire da qualcosa di importante perché io do un'importanza molto ampia a quello che l'azienda ha annunciato nella giornata di lunedì sicuramente Apple lossless potrebbe essere l'inizio di una piccola rivoluzione spoiler a me piacerebbe avere per questa nuova rivoluzione un'ultima generazione di di HomePod per quanto mi riguarda di iPod quindi per quanto mi riguarda un iPod Touch magari riprendendo un attimino i disegni di quel di quella di quell'iPhone 12 mini che che tante persone hanno hanno amato un iPod Touch so di persone che che vogliono provare questo prodotto chissà quanti quanti auricolari quante cuffie supporteranno questa versione mi piacerebbe tantissimo avere un qualcosa di un qualcosa di importante da da gestire in in maniera diciamo puntigliosa la parte di Apple come un'azienda del del genere sa fare ragazzi cosa possiamo quindi dire in conclusione di questa puntata che Apple deve puntare tantissimo sugli HomePod deve puntare tantissimo su Apple TV perché deve puntare tantissimo sui servizi non so quanto l'azienda ad esempio supporterà ancora Apple TV Plus per gli utenti non fuori dalla piattaforma di Apple One questa cosa è imbarazzante perché abbiamo 40 milioni di abbonati e l'altro giorno scrivendone ad Alberto gli ho detto quanti ne pagano 236 perché ricordiamoci che per tutte le persone che hanno ad esempio Apple One come il sottoscritto hanno TV Plus gratis se siete studenti avete innanzitutto Apple Music in sconto da 9,99€ a 4,99€ con Apple TV Plus integrato se avete comprato un qualsiasi prodotto Apple dall'iPhone 11 in avanti quindi da settembre del 2019 in avanti avete ancora adesso Apple TV Plus in omaggio e dopo dove andremo a finire Apple Arcade adesso è qualcosa di interessante perché indubbiamente i prodotti che Apple sta mettendo in campo sono decisamente diciamo potenti però ad esempio senza un controller senza un device del genere come posso giocare sulla nuova Apple TV e sarà una cosa che spero i vari i vari reviewer faranno magari se domani dovesse uscire la recensione di di Apple TV 4K 2021 gli altri servizi c'è Fitness Plus c'è News Plus che dovrebbero spero arrivare in Italia Fitness Plus magari sottotitolato oppure News Plus con qualcosa di inevitabilmente inclusivo quindi ad esempio il post ha lanciato il nuovo podcast di Francesco Costa sento per esempio la giornata di Laura Pertici quindi il podcast di Repubblica Corriere Daily di Tommaso Pelizzari sento i vari podcast tranne di Essential che è esclusiva Spotify da questa settimana quindi ciao ciao poverina mia Sheran a me piaceva tantissimo quel podcast ma non lo sento più c'è tre fattori di Mariangela Pira tutti i podcast di attualità a me non piacerebbe avere nell'applicazione podcast piacerebbe averli nell'applicazione News Plus nell'applicazione di Apple News quindi un'applicazione di Apple News anche su Apple TV dove apro e ho le varie clip delle varie testate ma anche i live a me piacerebbe aprire su Apple TV Apple News e avere magari in Italia magari le tre piattaforme con la loro News quindi SkyTG24 TGCom24 RaiNews24 ma magari poi anche BBC War News CNN International Fox News ABC News e le altre piattaforme oppure tutto ciò che è gioco in Apple Arcade così come tutto ciò che è video in che è video di intrattenimento in un'altra piattaforma cioè questa per me potrebbe essere un'ottima soluzione che nel mondo 2.0 dell'intrattenimento che oramai sarà anche 3.0 4.0 tutto ciò on demand potrebbe essere ovviamente applauso ad Apple per la calibrazione del colore che non è disponibile solamente sull'ultima Apple TV ma anche sulle precedenti e vi lascio il link ad un articolo e ad un video nelle note dell'episodio perché è interessante che per alcuni prodotti purtroppo diciamo che perde un pochino qualità appunto nei prossimi giorni proverò a vedere come funzionerà sul mio e in sostanza più o meno sarà quello e quindi vediamo perché è qualcosa di importante Apple TV sono importanti servizi e a me piacerebbe vedere una bella evoluzione di tutto quindi direi che la puntata di oggi può concludersi qui la settimana prossima torniamo con l'ultima puntata di Maggio S perché si sta già per concludere il mese di maggio vuol dire che manca sempre meno la WWDC che vi ricordo sarà lunedì 7 giugno e farò ovviamente il pre-evento in compagnia sicuramente di Alberto magari anche di Giulio e appunto impareremo a conoscere un pochino meglio la strada che Apple dovrà percorrere vi ricordo che lunedì ci sentiamo live alle 17 con una puntata appunto in diretta di AniPadguy perché dovrei finalmente mettere le mani sul mio iPad Pro M1 poi sono passato al 12.9 128 giga 5G quindi appunto ci sentiremo in diretta con le prime impressioni vi metto nelle note dell'episodio l'ultima puntata del podcast di Tenero Griglio che è il podcast di Miranovella che tra l'altro oggi compie gli anni per cui gli faccio innanzitutto gli auguri qui sul podcast e c'è una piccola sorpresa appunto nell'ultima puntata di Tenero Griglio per cui andate a ascoltare qualsiasi puntata di Tenero Griglio la 54 a me è piaciuta particolarmente anche se ovviamente la puntata di lunedì è molto interessante come al solito quindi vi raccomando Tenero Griglio oggi in particolar modo visto che appunto Miriana compie gli anni vi ricordo quindi i prossimi appuntamenti ricordatevi anche voi che attualmente avete un appuntamento quella con il foglio di calcolo di Numbers con anche la versione per Excel e per Google Documents per riempire il foglio di calcolo con ciò che volete lunedì 17 si spera un iPad Guy ci sentiamo su Twitter perché in ogni caso se ci dovessero essere ritardi di sorta riterrò a giornata e poi mercoledì con l'ultima puntata di MangioS ciao This episode has been produced with Bot Cleaner Discover more at botcleaner.com Google Documents per riempire per riempire www.sube.com per riempire